Avremo sempre più donne che dicevo davanti ai focolari, dopo vediamo un po' i da farsi, non mi sembra un segnale di progresso questo. Il mondo del lavoro non sembra conoscere la parità di genere, parla ancora troppo spesso infatti attraverso il linguaggio delle differenze. La provincia di Arezzo rispecchia i trend nazionali in tema di quella che potremmo definire disoccupazione di genere che in terra retina ha colpito i settori dalle numerose quote rosa come quello del commercio e del manifatturiero. La provincia ha sempre servito quella parte di produzione che è il manifatturiero della moda, a cui è stato richiesto un grande tributo alle donne e ora stanno pagando invece un altrettanto grave prezzo, non per ultimo la vicenda della Cantarelli, 200 oltre 270 donne alle dipendenze di questa importante azienda. Dal 2008 ad oggi abbiamo perso all'incirca 18.000-19.000 posti di lavoro a tempi pieni, una buona metà sono appunto donne. Oltre alla crisi che porta con sé moltissime vittime, a farne delle nuove è sicuramente anche la mancanza di welfare. Va 8 su 10, quando rientrano dalla maternità dopo nemmeno due mesi abbandonano il posto del lavoro. Qui interagiscono due problemi. Il primo è che non riesci a conciliare le tue esigenze per così dire, cioè non riesci a metterti d'accordo con il datore di lavoro. Poi ovviamente la scarsezza, cioè proprio abbiamo una mancanza di servizi che conciliano l'esigenza del lavoro con quella della propria vita. Poi asili nido e cari. Mobbing ad Arezzo purtroppo fa rima condonna, lo sportello articolo 4 si rivolgono infatti quasi unicamente lavoratrici. Se volevano ripristinare il concetto di sesso debole ce l'hanno fatta, però a colpi di umiliazioni, di atteggiamenti comunque sia discriminatori, di spostamenti, di trasferimenti dalla mattina alla sera in maniera brutale da un ufficio all'altro.